Se ne parla da un po', ma ancora nessuna conferma, eppure pare che il leader della Lega, nonché il ministro dell'interno Matteo Salvini, abbia una nuova fiamma, Francesca Verdini. Chi è questa giovane mora pizzicata con il ministro a un teta-teta romantico? È la figlia di Denis Verdini, ex plenipotenziario di Forza Italia. I due sono stati pizzicati in un bel locale a Campo Marzio, a Roma, di proprietà del fratello di lei, Tommaso. Un bel modo per dare addito ai tanti gossip. Francesca è bella, ha 26 anni ed è cresciuta con la mamma Simonetta Fossombroni, dato l'impegno lavorativo del padre, che si definisce assente. Ha una laurea non da poco, economia alla LUIS. Ha lavoricchiato durante l'università, sia come hostess che scrivendo qualche articolo online per Chuck, e un incarico ad Adlib, società argentina che promuove il networking nel mondo dell'arte. In particolare, nell'ultimo periodo, si è dedicata alla ristorazione per aiutare il fratello, di due anni più grande, nel business Pastation. Hanno aperto prima a Firenze e poi a Roma. Pare comunque che il suo sogno sia diventare una produttrice cinematografica. Gli indizi sulla relazione ci sono tutti. Salvini da poco ha infatti iniziato a seguire su Instagram la bella Francesca, lui che di persone ne segue appena 50, e in più si sbottona con frasi sibilline che però lasciano presagire che abbia il cuore nuovamente occupato. Come magari ci andiamo in due, parlando di un prossimo incontro che dovrà sostenere il 4 aprile a Parigi, una città decisamente romantica. Grazie a tutti.